Vado adesso alle richieste di preghiera, ma voglio cominciare con una lettera da parte di una coppia di fratelli che sono in una situazione un po' speciale, Luigi e Carmela. Ti leggo quello che è passato nella loro vita, così possiamo dargli anche i consigli giusti dal Signore. Fratello Giuseppe, voglio sintetizzare la nostra storia, tutto il nostro vissuto. C'è tanto da dire, in 32 anni di matrimonio è molto di più di persecuzione. Intanto mio marito Luigi, io che scrivo sono Carmela, quando è nato e in quei tempi i parti avvenivano a casa, c'era presente una fattucchiera che ha consigliato a mio suocero di buttare la placenta lungo un corso d'acqua. Se questo gesto abbia influito nella sua vita, non so. Il fatto sta che mio marito inizia un lavoro, un progetto e lascia tutto a metà. Da fidanzati ha aperto il negozio con acquari, piante e fiori. All'inizio andava bene, poi man mano con le visite sul posto della stessa fattucchiera, ora defunta, e da altri, tutto il guadagno andava perduto per spese impreviste da parte della mia famiglia. Poi c'è un parente acquisita, figlia di fattucchiera, che ha molti adepti, pensiamo sia a capo di una setta. Fa dei riti su animali in decomposizione o con frutta marcia, vestiti di nero, bruciano animali. E fanno tutta una serie di riti per portarci alle lemosina. E così è stato. Passano a ronda davanti alle quattro vetrine del negozio, lei e i suoi adepti. A volte entrano domandando i prezzi, domandano i prezzi, o comprano qualcosa per lavorarla, maleficiarla. In cerca sempre di aiuto siamo corsi pure noi, dai maghi, per ignoranza, e la situazione si è complicata. Abbiamo conosciuto uno, ora defunto, che fingendosi amico, ha passato il suo reflusso esofageo a Luigi. E ha peggiorato la situazione finanziaria. Poi abbiamo conosciuto una ragazza che diceva di vedere e parlare con la Madonna, ma una falsa veggente. E l'abbiamo seguita un paio d'anni. Ha voluto tenere a battesimo mia figlia Ilenia, seconda genita. Man mano si è scoperta e ci siamo allontanati da lei. Diceva che ci andava tutto male perché ci avevano codificati. Lei aveva la facoltà di entrare e uscire dagli spiriti delle persone che conosceva. E ci aveva completamente soggiogati. Poi conoscemmo uno spiritista, uno croato, anche lui distruttivo. E nel 2000 decidemmo di cambiare completamente settore in articoli da regalo, bomboniere, ceramiche, oggettistica, sessuti di arendo, eccetera. Tanti investimenti. Dall'inizio tutto procedeva bene, ma man mano, di nuovo, il via vai degli adepti, e non lavorando giorno dopo giorno, siamo stati sommersi dai debiti. La casa di cui ancora paghiamo il mutuo alla banca ha due ipoteche. Una dalla banca, una dall'ufficio delle entrate. Per tasse non pagate. Gli ultimi cinque anni la situazione è peggiorata. Settimane e mesi senza incassare un euro. Siamo ridotti ad avere difficoltà a mettere il gasolio nella macchina, che tra l'altro ha assicurazione e revisione scaduti. Per sette anni vi ha seguiti un esorcista. Alla fine ci ha detto di vendere tutto e cambiare lavoro, ma non ha dato alternativa. Ora siamo seguiti da un altro esorcista. Preghiamo per lui affinché capisca la situazione e possa liberarci. Ci sono due maledizioni sulla nostra famiglia. E circa sei anni fa ho conosciuto una persona di facili costumi. Ho cercato di aiutarla per toglierla dalla cattiva strada. Mi ha chiesto aiuto. Ma invece recitava, faceva parte anche lei di una setta. Fanno orgie e riti per favorire il lavoro, cioè prostituzione e varie. Vedendo che mi sono allontanata, dopo aver capito, ha voluto farmela pagare e mi perseguita anche lei, bloccando il lavoro. Attira l'attenzione dei clienti per qualche giorno finché dopo i consueti riti non vengono bloccati. I clienti vengono condizionati mentalmente, sono indecisi e confusi, quindi vanno deviati a comprare altrove. Anche di fronte a una delle vitrine abita una strega che mi ha bloccato il lavoro e soprattutto le bomboniere. Pretendeva lavoro a casa per la figlia. Ti chiedo, fratello Giuseppe, di pregare affinché lo Spirito Santo illumini la mente dei clienti. Possano ricordarsi positivamente di noi e preferirci, non essere più sviati, per ritrovare la nostra piena salute e realizzare i progetti di vita. Le mie figlie si chiamano Marcella, 28 anni, che ha problemi di sovrappeso e dolori intensi durante le mestruazioni. È molta pelluria, tutto causato da un farmaco contro l'epilessia, una malattia che si è presentata all'età di 10 anni. Ci è stato dato pure che gli è stata bloccata l'ipofisi. Lei è sempre a casa senza amici. La seconda figlia, Ilenia, 20 anni, che studia all'università, ha problemi di intolleranza alimentare, ma è strano che durante il pranzo faccia dei rutti paurosi. Sembrano boati. Pregate che Dio venga in nostro aiuto e ci liberi da una vita di tribolazioni e umiliazioni. Grazie. Cos'è che dice che è attualmente seguita da una fattuchiera? Attualmente sono seguita da un esorcista, ma c'è una strega che abita davanti a una delle vitrine. Ho capito. Che ha bloccato il lavoro. Ho capito. Quindi è seguita da un esorcista cattolico, suppongo? Sì. Suppongo un prete? Del solito loro fanno esorcismi. Un prete, suppongo? Sì, sì. Va bene, allora, vabbè, gli esorcisti cattolici, nella stragrande maggioranza dei casi, quasi tutti gli esorcisti cattolici, hanno un problema e sono cattolici, perché sono cattolici. E dovrebbe essere cosa? Dovrebbe essere cristiani. A me, quando sono esorcista, un esorcista protestante, un esorcista cattolico, non è che mi convince molto. Cioè, deve essere un esorcista, deve essere cristiano e basta. E comunque la parola esorcista nella Bibbia è usata in senso negativo. E c'erano esorcisti figli di un certo sceva, nel Libro degli Atti, un sacerdote, che sono finiti male. Quel che voglio dire è che Gesù non era un esorcista, Gesù era uno che liberava dei demoni. Cioè, a noi il Signore ci ha dato uno spirito santo e un potere per liberare dei demoni. Cioè, io non mi piace usare la parola esorcista, è una cosa che si usa nel mondo, insomma, a volte in senso positivo, a volte in senso negativo. E comunque la maggioranza degli esorcisti nella Chiesa Cattolica sono un po' troppo cattolici, perché sono sottomessi alla gerarchia cattolica che sono sempre cristiani. Voglio aggiungere che ieri Luigi già ha scritto, o Carmela, non so quali di loro hanno scritto, e hanno detto che dal giorno 21 che avete iniziato a pregare, abbiamo iniziato a lavorare. Le persone si sono accorte del nostro negozio e così pian piano abbiamo venduto articoli che prima non venivano neanche visti. E poi chiedono che preghiere dovremmo fare. Sì, questa è una domanda molto cattolica, cioè che preghiera devo ripetere? Cioè, amati fratelli, io non sono religioso, cioè non ho riti, non ho ripetizioni, non ho formule magiche, miracolose. Non esiste una formula. Anche il Padre Nostro, non si prega il Padre Nostro come serve a niente. Il Padre Nostro non è una preghiera da ripetere, è una formula, un metro di misura, come pregare. Si prega così, prima si loda il Signore. Poi si dice perdonaci come noi perdoniamo gli altri, cioè non ci perdonare il Signore se non perdoniamo. E quindi se Gesù sta insegnando, non è che Gesù non è che sta dicendo dovete ripetere, perdone i nostri peccati come noi perdoniamo. Non sta dicendo questo, non sta dicendo, Gesù sta dicendo se quando pregate e voi non perdonate, non riceverete niente. Lasciate la vostra offerta davanti all'altare, andate a pacificarvi, poi tornate e date l'offerta. Sta dicendo questo. Invece, cosa le religioni degli uomini, le religioni statali, secolari, cosa fanno? Ripeti questa formula. Questa è magia, questa è stregoneria. Se tu credi che ripetendo il Padre Nostro ottieni qualcosa, è stregoneria. Va bene? E te lo dimostro subito, in tutto il Nuovo Testamento mai nessuno si è azzardato a ripetere il Padre Nostro. Non esiste questa preghiera ripetuta. Capito? Queste sono le religioni. Perché? Perché sono morte, stramorte, vuote, non sanno cosa fare, non sanno dove vanno, non sanno cosa insegnare. E ripetono cretinagini. Però io sono nella Bibbia. Sì, ma Gesù non ha detto di ripeterli. Sennò diventi un pappagallo. Allora, non ce l'ho con te fratelli, vi voglio bene, vi amo e adesso cerchiamo di aiutarvi. Certo, pregheremo anche tutti insieme per voi oggi, quindi nel nome di Gesù chiediamo una liberazione completa. Capito? Ora, cioè adesso siete seguiti da un esercista. Guarda, non ti serve un esercista che ti segue. Ti può seguire un pastore. Non so, se per esempio appartenete alla nostra chiesa, noi vi seguiamo. Se preferite un'altra chiesa, va benissimo. Vuoi dire pastore evangelico? Cosa vuoi dire? No, 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 un pastore biblico. Ah, può essere cattolico? Sì, il pastore poi... Cioè, spero che non sia né cattolico né evangelico, spero che sia un pastore cristiano, va bene. No, la parola pastore è usata dagli evangelici. Sì, ma troppo cretinagini ci sono. Ma è così. I pastori non sono evangelici, sono biblici. Sì, sì, sì. Abbiamo detto prima nei Fesini, Dio ha stabilito alcuni come pastori, non pastori evangelici. Sì, sì, sì. Perché oggi, io sono evangelico, ma oggi quando dico evangelico vuol dire una religione, allora non lo uso. Sei evangelico? È certo, perché predico il Vangelo. Ah. Sono cattolico, perché sono cristiano generale. Ok. Cattolico vuol dire generale, universale. Allora, sono cattolico, sono evangelico, ma non li uso questi termini, perché se no pensano che sono sotto la denominazione protestante, sono sotto il Papa. Non lo sono, non lo voglio essere, Dio mi liberi. D'accordo? Voglio essere libero nel nome di Gesù Cristo. Gesù non è venuto a dire, ecco, io vi faccio evangelici. Vi faccio liberi. Per cortesia usciamo da queste cretinaggini. Sono cretinaggini. Gesù non è evangelico, cattolico. È Dio. Oh. A volte mi scrivono, ho capito, tu sei cattolico, perché vai nelle chiese cattoliche. Sì, oggi vai in chiese cattolica. C'è un gruppo che, i fratelli, i miei figli, sono in chiesa cattolica oggi, vanno lì a evangelizzarli, vanno lì a predicare, fanno un programma. E poi passano il cappello e grazie a Gesù qualcosa porteranno a casa, dobbiamo mangiare anche noi, che a volte le decime non bastano, se non l'avete capito. Qui dobbiamo anche darsi da fare. Mia moglie vendeva il formaggio per pagare la fita. Sì, sì, sì. Ok. E allora, dove eravamo? Allora, lasciate perdere gli esorcisti. Cioè, l'esorcista cosa ha fatto fino adesso? Non troppo. Le cose sono cambiate quando abbiamo pregato, così è, il 21 di questo mese. Sì, sì. Sono cambiate perché, non perché noi, noi abbiamo pregato, perché abbiamo pregato. Potevate pregare con un fratello del Polo Nord, era lo stesso. Quindi il fatto è di pregare in modo biblico. Oh, pregare in modo biblico. Va bene, non senza formule, la croce, la candela, la campanellina, il fiorellino, la Bibbia aperta, la Bibbia chiusa. Non serve a niente. E il cuore è aperto, ci serve. Va bene? E allora, oggi pregheremo. Il Signore ha già cominciato a liberarvi e finirà di liberarvi. Però a condizione che voi vi liberate dalle religioni. Quando vedi un fattucchiere passare davanti alla vetrina, vai fuori e gli dici, buongiorno, come sta? Gloria a Dio! Alleluia! A te, qui c'è un volantino, guarda, leggilo, bellissimo! Gloria a Dio! Evangelizzalo! Io ho incontrato un mucchio di diavoli posseduti e controposseduti. Io parlavo di Gesù, scappavano tutti. Tutti scappano sempre. Se tu insisti con la testa dura, devi avere la testa dura. Sai che la testa dura è buona, Angela? No, ma tu, Giuseppe, conosci... La testa dura con Gesù. Quando loro vogliono parlare di cretinaggi, tu parli di Gesù. Lo cambiano di discorso e tu torni su Gesù. Loro lo parli di filosofia e tu vai avanti con Gesù. Cioè, puoi fare mille discorsi, ma ci deve sempre essere Gesù dentro. E allora vinci, e lo diavolo se ne va, i fattucchiere se ne vanno. Se si fanno vedere davanti al negozio, esco fuori di corso, un sorriso. Gloria a Dio, grazie a Gesù, alleluia! Posso pregare che Gesù vi benedice? Dice, certo! Vuoi pregare con me? Sì, no, non lo so. Va bene, preghiamo a Gesù Cristo. Cioè, un sorriso, un amore sincero. E questi diavoli se ne vanno con tutti i loro spiriti. Sì, ma voglio dire che tu puoi fare questo solo perché tu conosci l'autorità che Gesù ti ha dato con la sua parola sopra i demoni. Ce l'hanno anche loro se la usassero. E ce l'hanno anche loro se hanno Gesù nel cuore. E quindi è la parola che ti dà questa autorità e questo coraggio di affrontare i demoni e sapere che non ti possono toccare tutte le fattucchiere, le maledizioni, le magie del mondo. Le maledizioni che mi mandano a me, caro mio, una carriola me ne mandano. Perché tu hai la protezione di Gesù, tu hai l'autorità sopra quei demoni. Certo. Ma è solo la parola che ti dà questa fede. Certo. Quindi, voi fratelli, sinceramente... Non la parola, la fede nella parola. Non è giusto, è giusto quello che dici. Però voglio precisare, fede nella parola. Perché farisei hanno la parola, però non c'è fede nella parola. Come lo sai che farisei non c'è fede nella parola? Perché non la vivono, non la predicano, non la praticano. Cosa praticano? Una panca la domenica praticano. E quello che questi dolci fratelli, Dio li benedica, Luigi e Carmela, sono gente tipica religiosa che hanno cambiato diverse... Li hanno addestrato male. Sì, li hanno addestrato male. Ma adesso è il momento di uscire dalla trappola. Che hanno cercato aiuto nelle chiese, nei maghi, e sono finiti male. Ma adesso andate alla parola, al Gesù del Vangelo, è quello che vi libera. Ma sai quante stragonerie c'è nelle chiese? Le chiese sono pieni zeppe di stragonerie. Le chiese sono una stragoneria, con un po' di Vangelo messo dentro. Capito? È una cosa adulterata. Un po' di Vangelo, un po' di diavolo, ecco la religione. Uscite da queste carceri religiose, seguite Gesù nel nome di Gesù. Da quando l'ho fatto, uh, gloria. Grazie a Dio che non sono mai stato un religioso classico. Va bene, sono sempre stato l'uomo della giungla, l'uomo delle foreste. Sono sempre stato un predicatore, un predicatore dei boschi, delle strade, delle campagne. E quando andavo nelle chiese e mi guardavano, uh, quello è meglio perderlo che trovarlo. Andavo lì, ti ricordi, picchiavo le pareti, dicevo, quando predichavo nelle chiese. Davo colpa alle pareti delle chiese, vedete questa parete? Qui queste pareti qua, dove siamo. Dio non abita qua, non è mica una statua che abita in un edificio. Dio nel nostro edificio è questo, qua, questo. Vivo, il corpo. Dio, qua, noi, io e te. Sì. Vabbè, se tu tocchi un fratello e una sorella, tu tocca un fratello e una sorella al tuo fianco. Metti la mano sulla spalla. Stai toccando il regno di Dio. Tocca la parete, stai toccando un cimitero. Ci siamo? E' per questo che io ho mai avuto successo nelle chiese. Ma noi erano tutti scioccati. Non dimentico oramai quel pastore che dopo la predica, dopo che tu hai predicato nella sua chiesa, era così sotto sciocche, diceva, non ho sentito mai una predica così. Però gli è piaciuto. Solo che è uno stile che lui non ha sentito mai. Ma vedete, queste chiese sono circa questo, un circo, i pastori dei clown, capito? La gente seduta, i clienti, pagano infatti per andare, capito? Però è la cosa che queste chiese, circa queste, sono piene di pecorelle, sono piene di pecorelle, per questo che devo pregare. Angela, allora ho risposto a tutto o sono ancora mezza, sono ancora mezza, metà strada? Allora, questi fratelli cosa devono fare per essere liberati da qualunque maledizione? Bene, ha detto che dal 21 di questo mese già i clienti sono aumentati. Perché? Perché abbiamo pregato. Non perché ha pregato il signor fratello Giuseppe, potete pregarlo da soli. Però nel nome di Gesù, per la potenza di Gesù, per la parola di Gesù, per il Vangelo di Gesù, Gesù deve essere a tutte le parti. Come vinco il diavolo io tutti i giorni? Perché tiro fuori sempre Gesù, vado sempre da Gesù, mi rifugio in Gesù, il mio salvatore è Gesù, la mia torre è Gesù, la mia potenza è Gesù, il mio messaggio è Gesù, il mio respiro è Gesù, il mio sangue è Gesù, il mio batticuore è Gesù, è sempre Gesù. E il diavolo non può avvicinarsi troppo, poco, pochissimo. Quando mi distraggo e guardo la mia carne, guardo allo specchio, e chi è quel pezzo di immondizia? Ah, sono io, sì. Allora il diavolo si dice, sì, allora lo vedi, sei un immondizio. Invece di guardare Gesù, dimmi. E allora che... Mi stai guardando, posso dire... No, sono d'accordo con tutto, però ancora non sono contenta. Allora, adesso che i clienti... E chi ti mi ha accontentato a te? No, adesso che i clienti arrivano, tutto bene? Basta? Cosa devono fare questi fratelli? Ma gliel'ho detto mille volte, del ripetuto di nuovo. E allora, il corso biblico ce l'hanno. Eh, sono all'inizio, loro sono nuovi. Se vogliono far parte della nostra chiesa, e vi chiedi perché non lo so, non ho ancora capito, c'è un esorcista che li segue. Uè, se vogliono far parte della chiesa, vi serve un pastore che vi segue, io vi posso seguire, se no trovate uno meglio di me. Gli esorcisti qui non possiamo avere due gali in un pollaio, dovete seguire. Cioè, io vi ho dato, io do un corso biblico, va bene, e quel corso biblico non guida fratello Giuseppe, guida a un altro, un nome che comincia con la G. Gesù. Il cognome con la C. Capito? Cristo. Ecco, quello scopo del corso biblico, se qualcuno non l'avesse capito, e basta. Il corso biblico non è per innalzare la grande chiesa, l'edificio, il cattedrale, l'edificio di fratello Giuseppe. No, è per innalzare il Spirito Santo. Quindi, loro devono andare al corso biblico, studiarlo, e dura cinque mesi, va bene? Non sono sul corso biblico loro, adesso si sta controlando. Lei ha detto, avete pregato al 21, tutto è cambiato, comincia a cambiare. Adesso, fate il corso biblico e ne riparliamo fra un mese o due. Dovete crescere, i fiorellini hanno bisogno di sole, di acqua e di amore per crescere, e tutto nel corso biblico, va bene? Cominciate con quello, quando avete finito lo Spirito Santo vi dirà cosa dovete fare. Saprete cosa fare, i fratelli che l'hanno fatto col cuore, dopo sono così effervescenti, spumeggianti, elettrificati, felici, contenti e spesso guariti, liberati di sicuro se l'hanno fatto bene. E con un pizzico di fede, che serve un pizzico di fede? Almeno, almeno della grandezza di un seme di mostarda, quello ci vuole, capi? Quello non è la salvezza, perché puoi essere salvo senza guarito. Se vuoi essere anche guarito ti serve un po' di fede, almeno quanto un granello di mostarda, quanto è grande come la capocchia di uno spillo. Io c'è uno qua, lo scotch, te lo faccio vedere, lo ho messo con lo scotch nella mia bibbia. Ecco, dove è qua? Ho messo quella qua, dove è? Ah, di mostardo. C'è un seme di mostarda con un pezzo di scotch, ho attaccato la mia bibbia. Ecco, va bene? Aspetta, quando trovo la bibbia te lo faccio vedere. Ok. Eccolo qua, l'ho trovato. Vedi? Com'è grande, una capocchia di spillo, hai visto? Sì, piccolo, piccolo. Hai visto? Sì. L'ho scotchato dietro la copertina della mia bibbia, vi faccio vedere alla gente. Questa, ti serve almeno questa di fede, però non gli mettono una goccia di dubbio, lascialo puro. Puro deve essere, come un bel bicchier di vino, e gli mette dietro mezzo litro d'acqua, cosa fa? Non è più, no? Va bene? A posto? Ok. Allora, questo è il fratello. Corso biblico? Va bene. E poi, adesso preghiamo la preghiera di corsa. Adesso, infatti, preghiamo per tutti, preghiamo anche per loro. E se loro si metteranno in ginocchio, nel loro cuore, abbandoneranno tutto, cominciare con le loro paure, i loro fattucchieri, i loro esorcisti, la loro religione, cattolica, protestante che sia, e si sposano, si entrano in matrimonio, celebriamo il matrimonio con Cristo, per fede, sarà celebrato in cielo un giorno, presto. Ma adesso facciamolo per fede. È come quando due si fidanzano e dicono, guarda, tu sei l'uomo e la donna che Dio mi ha mandato. Io siamo fidanzati, ma nel mio cuore di te ho già sposato, perché sei la donna, l'uomo che Dio ha mandato. Sei un disgraziato come me, abbiamo lo stesso diploma, siamo buoni a nulla, sciagurati, che Gesù ci ha salvato, però amiamo Gesù. Ecco, nel mio cuore io ho già sposato, supponiamo che mia moglie e mia fidanzata già capito che viene da Dio, io già l'ho sposata, anche se ancora non abbiamo consumato, solo orato, non consumato. Ecco, una cosa così, sposarsi con Gesù adesso, con tutto il cuore, pronti fino alla morte, solo questi saranno la sposa. Se voi farete questo, benvenuti, noi siamo con voi, andiamo. A posto? Sì, sì, va bene. Allora, la parte che questi fratelli devono fare è di studiare la parola, crescere nel Vangelo, essere più forti nella parola di Dio, per non dipendere sempre dalle preghiere di altri e per riconoscere l'autorità che hanno sopra il diavolo. Certo, e quello che dico loro lo dico a tutti. Amen. Adesso pregheremo, vi serve solo una liberazione, non è che vi serve troppe prediche a voi, vi serve, fratelli, una liberazione. Dovete essere liberati dagli spiriti del diavolo. Poi, poi fedeli con lo sposo, Cristo, fedeli con la sua parola, memorizzarla, leggere, studiare, meditare, la televisione fuori dalla finestra, film cristiani, sì, film cristiani, cose cristiane, qualche film positivo, d'accordo, ma non tutte le immondizie che sfornano quei stregoni travestiti da politici, eccetera. Va bene? Ok. E poi parlare di Gesù. Parlare di Gesù è una cosa che fa infuriare il diavolo al cento per cento. Parlate di Gesù. Ma dovete menzionare il nome Gesù, Gesù. Gesù. Non solo amore, gioia, bla bla. L'amore, sì, di Gesù. Sempre menzionare Gesù alle persone che ascolta. Va bene? Angela. Allora, facciamo una preghiera per questi fratelli. Insieme a tutte le richieste che abbiamo ricevuto, posso leggerti la lista? Dimmi. Preghiamo per... Guarda che ore sono. Eh, lo so. Guarda che ore sono in Italia. Eh, in Italia. Guarda che ore sono in Italia.